Segnaletiche turistiche, giornate e lavori di manutenzione sulle pensiline delle fermate dei bus avviati, Sulmona si accorge di essere una città turistica, nel vero senso della parola. Sono stati aggiornati i cartelli di benvenuto alla città, situati in cinque ingressi della città di Sulmona, Viale della Repubblica, Via Lamaccio, Viale Mazzini, Via Stazione Introdacqua, La Corità Incoronata. Sono stati inseriti sette stemmi delle città con le quali Sulmona è gemellata, Costanza, Hamilton, Burghausen, Zante, Ovidio, Suomperc, Serravalle. Una modifica, nell'ambito del decoro urbano, voluta da sindaco Ann Maria Casini, con lo scopo di far percepire immediatamente ai visitatori come Sulmona non sia una città chiusa, ma collegata con altre realtà e culture estere. Operazione curata dai dipendenti comunali Mila Deramo, ingegnere Grino Cianfaglione, dietro lo scrupoloso sopralluogo effettuato dal comandante della polizia locale Leonardo Mercurio. Ma da questa mattina sono stati avviati alcuni interventi di manutenzione in diverse aree della città, sostituite le lastre in vetro delle pensiline situate in via a circonvalazione orientale danneggiate a maltempo. Nella scuola Celestino V della frazione Bagnaturo è stato effettuato l'intervento del taglio erba a cura dei giardinieri del comune, consentendo quindi il ripristino dei giochi all'aperto per i piccoli alunni. Sono in fase di ripristino anche le panchine situate di fronte al complesso monumentale dell'Annunziata. Grazie. 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 Grazie.